Slezia di Reppi e Special TRGF in seconda con Special che rimane molto lontano, lungo la corda, si avvia veloce Samba di Azzurra, lungo la corda perché sinergia è partita piano. Samba di Azzurra al comando, ripiega Suspicious Mind, 200 iniziali in 14.6, Cavalli che affrontano la prima curva, Salinas G va su Samba di Azzurra, la sopravanza lungo l'arco della piegata e all'ingresso del passaggio di fronte alle tribune sfila al comando Salinas G su Samba di Azzurra. Saga PDL che avanza decisa all'esterno, Salinas prova a contenerla, Saga insiste all'esterno, ne vengono fuori 600 iniziali veloci in 46.5, veloci per la categoria. In terza posizione sempre Suspicious Mind, all'esterno Siesta Capar, metà gara per Salinas G, 1.2 abbondante. Samba nella sua scia, Saga all'esterno, poi Suspicious con all'esterno Siesta Capar, ancora sinergia OM, l'esterno Stella del Nord OP. Chiude il gruppo Slesia dei Reppi, 18 il primo chilometro, Salinas al comando, Samba che è la fila, all'arco Saga, poi Suspicious all'esterno Siesta, mancano 400 metri alla conclusione, 1.33 e mezzo i tre quarti di miglio, Salinas in vantaggio su Samba e Saga, Salinas che prova la fuga, guadagna terreno sulla curva conclusiva, entra al comando la retta di arrivo, Salinas G su Samba di Azzurra. La retta di arrivo, Salinas in vantaggio, Samba che prova l'aggancio, Salinas al comando, Samba che prova l'affondo, Salinas che si difende, Samba che attacca, bella a arrivo sul palo, ancora Salinas su Samba, poi Slesia che regola Siesta, quinto posto per la debuttante Suspicious Mind. Vince per la seconda volta consecutiva, Salinas G, Afrim Shmidra in Salchi, i colori del signor Kustim Shmidra, i colori, il training di Gennaro Casillo, ecco la Salinas G, un bel primo piano per questa femmina che nasce da Fairbank G, che di una mezza lunghezza scarsa si salva fino in fondo dal finale di Samba di Azzurra, io ho 2.4 sul cronometro, quindi la media sarà intorno all'1.17.5, Salinas G per la seconda volta a seguire vince in Salchi, Afrim Shmidra.